Ciao, in questa lezione ti voglio far vedere come si fa del salato. La pasticceria salata è molto importante. Ti faccio vedere come si fa del salato in maniera molto semplice. Quindi ti spiegherò come fare una treccia al crudo e formaggio, un saccottino al prosciutto e formaggio, una girella al rosmarino e un cornetto salato. PIEGA 3 Ultima piega, parte aperte. PIEGHAMO LASCIA IL SEGNALE TAGLIAMO A METÀ SOPRAPONIAMO L'uovo serve per dare colore e la panna serve per togliere invece il sapore sgradevole dell'uovo. Questa è la lezione del salato. Spero ti sia piaciuta. Quindi puoi sicuramente sperimentare questo tipo di ricetta in maniera rapida perché è un metodo diretto. Spero ti sia piaciuta la lezione. Alla prossima. Ciao. Io. PIEGHAMO Grazie a tutti.